Nell'ex scuola primaria Raffaele Laporta, che vedete alle mie spalle in Vialago Sant'Angelo a Pescara, saranno ospitati circa 70 posti letto per raccogliere i clochard senza fissa dimora nel periodo natalizio più freddo per ripararli appunto dal gelo. Cuscini, coperte e lenzuola, oltre alla prima colazione, saranno forniti dalle 19 alle 9 la mattina. La macchina organizzativa ha sottolineato l'assessore comunale Antonella Legrino. L'apertura della struttura è prevista per il 29 dicembre prossimo. L'accoglienza sarà curata dalle ore 19 alle ore 9 dalle associazioni On the Road Onlus, dalla Fondazione Caritas e dal Comitato Provinciale dell'Arci, che nel mese di febbraio hanno partecipato al bando di coprogettazione per lo svolgimento del servizio pronto intervento sociale e da tutte le associazioni di volontariato che vorranno collaborare al piano freddo. Ripetiamo le esperienze che abbiamo fatto in via sperimentale l'anno scorso e l'avevamo fatta al centro Britti. Quest'anno l'abbiamo istituzionalizzata, quindi l'abbiamo inserita all'interno delle attività proprio, dei servizi sociali e del pronto intervento sociale, per cui ci sarà tutta un'organizzazione, la macchina organizzativa è già partita, è già pronta e per 60 giorni, quindi in relazione al periodo più freddo dell'anno, verranno accolte persone che non saprebbero dove andare a dormire. Persone senza fissa dimora, clochard come vengono chiamati, sempre più numerosi. Voi avete istituito anche un numero per segnalare quanti vivono per strada. Sì, naturalmente abbiamo anche istituito il numero e sono sempre più numerosi perché Pescara è percepita come un punto di snodo e un punto in cui poter restare per un certo periodo di tempo. Poi ci sono gli stanziali, quelli che in realtà invece restano per tutto l'anno, ma che riescono ad organizzarsi durante altri periodi dell'anno, mentre hanno difficoltà ad affrontare il freddo ed è per questo che noi ci siamo attrezzati in questo modo.